E' stato arrestato alla frontiera tra Grecia e Macedonia il presunto responsabile della tentata violenza sessuale commessa il 13 febbraio ai danni di una donna di origine italiana a Vittoria Puana in via Russo, una strada privata di collegamento tra il lungomare e via Mazzini. Il giovane LK di 21 anni era riuscito a fuggire e da allora era latitante. Gli uomini del commissariato di Forte dei Marmi sono risaliti alla sua identità attraverso i numerosi filmati delle telecamere di sorveglianza della zona e grazie alla testimonianza di decine di persone. Le indagini hanno così indicato agli investigatori che alcuni suoi familiari erano residenti a LAC in Albania e che l'uomo presumibilmente avrebbe cercato rifugio presso di loro. Grazie al servizio di cooperazione internazionale di polizia si è potuto risalire al suo ingresso in Albania a bordo di un'auto attraverso una frontiera in Montenegro. Acquisite tale informazioni è stato richiesto alla procura l'emissione di mandato d'arresto europeo e l'avvio delle procedure volte all'estradizione. Mandato d'arresto emesso dal GIP il 14 marzo quando il soggetto è stato rintracciato dalla polizia greca in collaborazione con l'agenzia Frontex alla frontiera terrestre tra Grecia e Macedonia. Il fuggitivo è stato dunque tratto in arresto e condotto presso un istituto di detenzione greco in attesa dell'espletamento delle pratiche dell'estradizione. Dopo le procedure di rito è stato tradotto nella casa circondariale di Civitavecchia.